mezzanotte 10 piazza roma è scattato il coprifuoco ancora molti ragazzi in giro ma i locali sono tutti chiusi centro storico deserto locali chiusi anche per evitare i controlli della polizia anche in contea uno dei simboli notturni di oristano è tutto chiuso a mezzanotte quando in genere il lavoro sta appena iniziando e allora i giovani dove sono risposta scontatta in piazza cattedrale dove il distanziamento è nulla ma la mascherina almeno quella la indossano